Girare un video con Mariella Perino significa entrare necessariamente nel suo mondo. Nel momento in cui accendi le telecamere, Mariella ti porta immediatamente dentro il suo universo. Ricordo ancora quando siamo entrati nel suo laboratorio l'atmosfera di magia e di energia. Il piacere di sentirla parlare, dimenticandosi quasi che stavamo lavorando, che stavamo facendo una ripresa per un video, di testimonianza di tutta la sua esperienza. Un'immagine piena di energia, di colore, come si dice in televisione, un'immagine che buca lo schermo letteralmente. E anche quando spegni le telecamere, l'intervista continua, all'infinito.